benissimo vieni dai dai i tecnici della regione andiamo a chiamare abbiamo una volle generale del comune grazie siamo la presidenza di doggia con te che è tutto e non si vengono a fare un'italia e non si vengono a fare un'italia e qui si vengono a fare un'italia e qui vivono a farlo il mio servizio Grazie a tutti. Grazie a tutti.